Tensione e paura per la politica italiana, ministro ricoverato d'urgenza all'ospedale per problemi al cuore. Ma prima di raccontarti cosa è successo, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video. Grazie mille! Nel cuore della notte, un evento scioccante ha sconvolto il mondo politico italiano. Il ministro della difesa è stato ricoverato d'urgenza per una misteriosa pericardite, scatenando una tempesta di preoccupazione e speculazioni. Infatti il ministro si è presentato al pronto soccorso del San Carlo di Nensi, a Roma, con dolori toracici intensi, scatenando l'allarme e dando vita a una corsa contro il tempo per salvaguardare la sua salute. Dopo essere stato sottoposto a una coronarografia, i medici hanno confermato la diagnosi di pericardite, un'infiammazione del pericardio, la sacca che avvolge e protegge il cuore. Ma cosa ha causato questa improvvisa condizione in Guido Crosetto? Le fonti ospedaliere rimangono elusive, ma si sospetta un'infezione virale come possibile colpevole. Fortunatamente, gli esami hanno confermato che non ci sono danni al cuore e il ministro è stato descritto in condizioni stabili. La pericardite, una condizione spesso causata da infezioni virali, può provocare dolore toracico acuto e rappresenta una sfida per i medici. Tuttavia, con la diagnosi tempestiva e il trattamento adeguato, è possibile gestirla con successo. Ecco perché è fondamentale diffondere la consapevolezza su questa condizione e comprendere i suoi sintomi e trattamenti. Inoltre, la solidarietà non è mancata da parte dei colleghi politici, con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha rassicurato il pubblico sulla condizione del ministro, affermando che «sta abbastanza bene» e che c'è ottimismo per il suo recupero. Insomma, un momento di tensione nel panorama politico italiano, ma con una nota di speranza e ottimismo. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa sorprendente vicenda.